Ma va sicuro che questa volta faccio un gioco di fuoco, faccio! La fine del... ferma! Ferma, ferma! E chi è questo figlio di... Di donna Caterina, eh? Visto quanto è bello, tutto è giuciatto di suo padre. E il padre? E chi è il padre? Parla! Io sono il padre! E figlio mio! Tutto mio! Tuo? Sì! E lo confermi pure? Sì! Crede! Inveci! Ma che ve ne importa? Se il figlio è mio, non è di Salvatore! E l'eredità non è più di Caterina! Ma è nostra! Credemi! E già! E questo è vero! E così abbiamo la prova evidente che questo è un figlio abbastardo! Che volete voi? Fuori di qua! E perché, Caterina? Non sei contenta che siamo venuti a congratularci per l'analisi?